Se volete acquistare i crediti FIFA andate nei link in descrizione fifagredits.com Bella ragazzi! Si è messo a mano Bella squadretta questo Sì, e niente, siamo su FIFA, no? Bella squadretta Bella squadretta questo Bella squadretta Mi sembra quasi quella... no Non è vero Sembrava quasi la tua, ma non è vero È una ibrida Ibrida, brasiliana Bundesliga Bundesliga Allora, siamo tornati con il suo meglio sul canale dei XGRA Nass? E' Fiammi Gunner secondo Contro i Grananal Yes E oggi giocheremo, giocheremo al primo tempo lui e al secondo tempo io È una partita totalmente alla cazzo Lui è in divisione 2 Io sono in divisione... no, 8 Notto Notto Non riesco a salire nella nette Però quando... ci sarà anche la Nei La Nei... la Nei è brutta Poi devi far controllo ogni tanto su qua Devi far controllo dei Nei E poi c'è la... Comunque De Rossi è veramente brutto Sembra di Gozingaro Sì, ma infatti De Rossi è fatto malissimo Non c'è un momento più di riguardo Valotelli Ecco Eccolo Valotelli già inizia alla gare Perché c'ha tre gambe Attenzione Chiuse Eccolo che è partito Tevez Il tiro Madonna mia Attenzione Che noier importa Il mio mito È gol È gol È gol È gol È gol È gol Non so Per la pizza Comunque lasciate un like Se anche voi volete che Daryl smetta di essere uno struzzo Quando gioca Quando registra i video Sta così E guarda in alto Quindi no alla struzzaggine di Daryl 10 euro all'8x1000 E compri il televisore da mettere sul tavolo Eh sì All'8x1000 Però non ti arriva una lida A te È scemo di guerra Datevi un po' il paypal Dato94 Quella di me l'ho creata 40 anni fa Ma quella non era un altro Lui è Dato Lui è Dato E' Dato il Mac È poco buono Perché sono Dato Ah Dato Bax Allora Attenzione Oddio Balotelli Oddio Minchia che tiro Che sternata È andato sul pianeta di Destiny Sì è andato sul Destiny per pallone Ma come sai usa Radu Questa è romanista Eh lo so Però l'unico Non c'è stanno pezzini inseriate C'è venti Ma ci sto io Giusto A te in porta sei più forte Vero? Sì Prato bravo in porta Vero? Sì dai Quando Quando ti dita Xenic Sì Non mi temoli il letto Però Se stanotte muore qualcuno Da letto a castello Tappiate che Mi schiaccio Fratello di Daryl Non volevo Attenzione C'è il gol Rigore Rigore No ma sai Spelle Quel tipo Ti ha dato un calcio Un faccio Ma dai Porco cane Ti ha dato rigore Oddio Radu Ciao Radu Ora Ma io se giocavo io Fammi parare a me Questo Ecco Tanto dira a destra Ma se tu fassa Pol sinistro Pol destra Pigni tutte e due Per sicurezza Resta fermo La vuoi si presa Bene Dai Giorgi Oddio Ti ho lezzo Ecco Oh tira E che cazzo Mamma mia che grande Neuer Io ti favo per loro Ah ma c'è Neuer Ecco perché Mi hai spiegato tutto Neuer Ho fatto tribolare parecchi Di me la godo con Neuer Attenzione Neuer Mamma mia Neuer È qualcosa di Cioè È qualcosa di Neuer Una Neuer giocava Contro dei Neuer Mamma mia Seppellisciti Seppelliti Non so Seppellisciti è giusto Perché ha peso Attenzione Allora adesso Ditevi tutti quanti Qual è il participio Passato di pendere E non andate a cercarlo Su internet Perché sia al computer Bastardi Scrivete quello che pensate E tanto pensate male Attenzione Bruno Zil Schweinz Draxler Runei Oddio meritavo un gol Ci fai come ce la portiamo a casa? Alla Pizzul Proprio Che cazzo faccio? Eh attenzione Runei Ed è gol Eh attenzione Eh 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 Attenzione Runei Va sul 2 a 0 Il 49esimo Eh attenzione Bruno Pizzul Ce la portiamo a casa Beppe Sì Non diceva Beppe No No E' ancora un altro Esatto Io sei Royce Guardalo Rolls Royce Guardalo Balla di via Eh Balla di via Ma che cazzo è Balla di via Rolls Royce E c'è il 3 a 0 Lo sto giocando io Ma c'è il 3 a 0 Non puoi di farmi contro Pezzo di me Ma sì Ma sì Rolls Royce Non puoi fermare nulla contro Rolls Royce No ma che è No regà Non mi vergogna La riconosce solo me Riconosce perché io sono Quell'altro della gara Bundesliga Quindi porterà rispetto Nei confronti Cioè gli sto regalando Guarda 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 Attenzione Oddio no Non è riuscito a passare Vai Allora attenzione Qui c'è il secondo tempo Sarà Fatto Iniziate tutti sintonizzati Perché c'è il recupero Eh Guarda 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 Cioè guarda quanti tir Guarda quanti tir ho fatto io Cioè Ma chieda Non smettila Hai fatto solo cosa Dovevo rompire testa Non sei buono Affancazzo Mo' io rompiamo il culo Devo prendere pata Vabbè farà un tiro Non riesco a Guarda non riesco a Ma con cosa cambi Giocatori Esci con triangolo Esci Esci Oddio 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 No cosa fai Dai Adesso sono un percuro Facca puttana Ah Ogni Un cambio comando È una pizza Vai Prendi la Dai Non smettila Aspetti un attimo Non la metti Ma entro i lunghi Dio Hai pulito la casa sotto Sì quasi Oh dai Ma inizzi Non l'ho sentito No No ecco un altro rosso Ma non è rosso Non è da rosso Lo stai giallo No è amaranto È amaranto Attenzione Incredibile E caglia L'ho preso Un braga Pocciato Sapo Fade Faccia le cieli Le geometrie Ma tenete Rientra ancora No Vado di rientra ancora Ma che cazzo rientri Ma la pietina C'ho avuto paura Mi ritriano in un pizzone Oh ma chi è questo Ma puoi correre La rotella La rotella La rotella La rotella Dai che ce l'hai Attenzione George Bella Tiraci Tiraci Ma è la Tisana Che cazzo Ma affatto Cos'è Mi pare che c'è la finestra Sono andato di sotto Guarda quello è partito Ho visto Ho visto In effetti non ho visto quello Ma quello no Perché è uscito da solo Ma è scemo Bella prova Intanto C'è C'è da dire che Ne hai presi tre E io zero Giusto Ti si fate sperare Un giocatore Sei un cretino E stai pure andando fuori Dalla finestra No Giusto Ok Sono tirando sul mio telefono Incredibile Allora ragazzi Il video è finito Lasciate un mi piace Per piacere passate sul mio canale Ok Giusto Perché c'è bisogno di iscritti Quindi Passateci E niente Da Darryl Da Dar E Darwes È tutto E noi ci becchiamo al prossimo video Bella